Independente Au Dominarium et Judices L'impero è cresciuto a dismisura assorbendo popoli e culture in un croggiolo di razze tenuto insieme a stento dalle armi e dalla burocrazia. Sai di cosa parlo? Dell'Unione Europea. Questo è l'impero di Roma assediato dai barbari. Gli unni presto ci invaderanno e se non saranno gli unni, saranno gli altri. Parlo di invasioni barbariche. Sai chi l'ha condotto? Daria Bignardi.